Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it Sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it Buonasera a tutti, conseguiamo la nostra conferenza da dove è venuto a Cospanto il quale lascio la prima dichiarazione sulla gara, prego Devo congratularmi con Pistoia per la partita che ha giocato valorizzata da questo ultimo quarto da percentuali difficilmente ripetibili abbiamo cercato di trovare la giusta intensità e aggressività senza mai fermare la precisione dei loro tiratori questo ha generato anche una brutta reazione psicologica perché chiaramente averli visti recuperare questo scarto così velocemente ha tolto anche lucidità al nostro attacco che fino a quel momento era riuscito ad essere efficace a certi regimi che non erano certamente quelli che mi auguravo riuscissimo a indirizzare nell'arco della gara perché nel nostro piano c'era certamente cercare di controllare diversamente i ritmi ci siamo fatti trascinare in una corriettira che è stato poi letale nel finale ovvio un secondo tempo da 59 punti subiti e un ultimo periodo da 32 con certe percentuali al tiro e credo complessivamente sia stato un 11 su 12 dal campo testimoniano che non siamo mai riusciti a fermare la loro precisione incisività e aggressività una squadra che gioca con questo piglio da inizio stagione con questa sicurezza da inizio stagione che devi essere bravo a controllare noi se per 30 minuti siamo riusciti a tenerle a distanza purtroppo qualche segnale che la nostra difesa non avesse l'intensità adeguata già c'era e poi dopo tutto si è manifestato in modo prorompente e complice anche il fatto che in loro crescesse la fiducia e la consapevolezza che possesso dopo possesso stessero recuperando il gatto domande per il coach Alessandro Allora mi chiedo visto che poi la stagione ha dei ritmi si continua a giocare mi chiedo con le ferite anche mi sono appunto avendo questa scambiata anche se vuoi rientrando e mi chiedo anche di coordinieri visto che è stato disponibile però poi ho viaggiato con voi ma non aveva mai giocato in vista delle prossime ma per quanto riguarda Daniel c'è stato un problema è stato lui che dopo essere passato dagli spogliatori ha chiesto espressamente di poter avere la possibilità di giocare perché voleva testare non mi è sembrato che fosse particolarmente limitato vediamo poi cosa succederà nelle prossime ore per quanto riguarda coordinieri è un discorso più complesso perché abbiamo sperato che l'infortunio si risolvesse in tempi inferiori poi in realtà ci sono dei rallentamenti che mi fanno essere piuttosto pessimista sulla possibilità di recuperarlo a breve grazie buonasera sono d'accordo forse non ero stato chiaro quanto detto prima la percezione era quella che anche collezionando quel vantaggio non fossimo riusciti a imporre i ritmi che c'eravamo prefissi insomma Pistoia ha giocato con un numero bassissimo di palle perse ha tirato con alte percentuali quindi eravamo comunque in un territorio rischioso poi è ovvio che i 19 punti di vantaggio fanno credere che mantenendo certi regimi realizzativi comunque tu possa tenerli a distanza la realtà è che purtroppo siamo incappati in un quarto periodo di una sterilità assoluta con l'attenzione palpabile che si respirava in campo abbiamo perso fiducia abbiamo cominciato a vedere il canestro veramente piccolo e questo ha dato sicuramente ulteriore spinta e energia ai nostri avversari però ecco la sensazione era che quel vantaggio lo avessimo costruito più nella metà campo offensiva che non in quella difensiva e alla fine è stato finito psicologico o fisico? ma non lo so noi abbiamo votato 12 giocatori in campo quindi io penso che per la squadra che siamo e i quintetti che proponiamo penso che non si debba andare a a scavare nell'ambito della fatica della stanchezza quanto piuttosto del fatto che non siamo riusciti a trovare risposte alla loro vena realizzativa tutto si è manifestato un po' clamorosamente nell'ultimo periodo e sicuramente questo ha avuto una valenza anche psicologica perché forse anche inconsciamente pensi che questa sia una partita che possa continuare su quell'inerzia lì e che tu possa ancorarti alle tue percentuali realizzative oppure la facilità con la quale abbiamo trovato buona distribuzione anche tra la presenza di gioco interno precisione dall'arco e poi improvvisamente tutto è diventato difficile abbiamo iniziato a sbagliare canestri anche piuttosto semplici il canestro si è chiuso abbiamo fatto uno su undici da tre punti in ultimo periodo con Pistoia che ovviamente si è sempre più arroccata dentro l'area sfidandoci a tirare e questo poi è diventato letale insieme alle loro percentuali realizzative che insomma non sono da tutti i giorni perché avere certe performance ovviamente complice infatti hanno certe caratteristiche ma giocare queste partite ti dà anche quella leggerezza e quella spezieratezza che ti può spingere anche a prestazioni di questo tipo io non andrei a guardare alla stanchezza che è una condizione con la quale conviviamo voglio dire venivamo da una partita durissima casalinga con 72 ore di tempo ancora una partita in casa quindi c'erano tutti i presupposti onestamente per quanto abbiamo visto nei primi 30 minuti non abbiamo dato la sensazione di essere una squadra stanca quanto piuttosto purtroppo negli ultimi 10 un po' attanagliata dall'attenzione e dalla paura grazie